Ciao Ratti Lover, stai cercando un crossover che sappia distinguersi? Peugeot 3008, seconda serie, 1.5 di cilindrata, 130 cavalli, allestimento GT Line. Aziendale, immatricolata nel 2019, quindi certificata e garantita perché ha superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri automotive experts. Alimentazione a diesel percorre ben 24,4 km con un solo litro. Super elegante questo color grigio Hurricane, messo in risalto dalle cromature sulla carrozzeria, intorno al gruppo ottico inferiore e alla griglia centrale. I dettagli cromati si allungano poi dal gruppo ottico sulla fiancata a bordeggiare i finestrini. Le linee di tensione sul cofano la rendono ancora più muscolosa e di carattere. Super sportivo l'allestimento GT Line. I cerchi sono in lega da 18 pollici a 5 razze bicolor, nero lucido e cromate. E il battistrada in condizioni ottime. Il bagagliaio con luci di cortesia parte da una capienza di 420 litri. Abbattiamo i sedili posteriori con questa pratica leva e arriviamo a 1482 litri di capienza. Comodissimo accedere ai sedili posteriori e la spaziosità non manca. Le sedute sono in pelle e tessuto curatissime nei dettagli con cuciture a vista. E il sedile centrale può diventare un pratico poggia-braccio con doppio portabibite. E abbiamo anche un pozzetto che permette direttamente l'accesso al bagagliaio. Attacchi Isofix a entrambe le sedute laterali posteriori. Bocchette dell'ariazione dedicate anche ai passeggeri posteriori. E tasca porta tutto. Il sistema di accensione è start and stop keyless. Bellissima e spaziale è la plancia di tecnologia i-cockpit. Il volante in pelle è piccolo e maneggevole con cuciture a vista e numerosissimi tasti. Tra cui il comando vocale e la gestione delle telefonate. Posteriormente troviamo la levetta del cruise control. Meno di 15.000 km all'attivo. Sopra le bocchette dell'ariazione si staglia il bellissimo display dal quale è possibile gestire tutto l'infotainment attraverso i tasti toggle switch. Possiamo gestire la radio, il clima che è bi-zona, il navigatore, le impostazioni di setup della vettura. E vediamo che c'è il mantenimento in corsia, il sistema start and stop, l'assistenza al parcheggio con i sensori perimetrali, la sorveglianza degli angoli morti, l'antipattinamento e l'avviso degli pneumatici sgonfi. Possiamo connettere il nostro smartphone attraverso bluetooth o con il pacchetto MirrorLink che comprende Apple CarPlay e Android Auto. Insomma non ci sono più scuse, corri subito sul nostro sito rattiauto.com. Con un solo clic potrai riservarla per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro. Puoi riceverla direttamente a casa in tutta Italia con servizio di consegna a domicilio con igienizzazione. Non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto! Alla prossima!